All'uno e mezzo il direttore Marotta che gli fa, guarda, c'è un problema grosso. Che problema c'è? Ti hanno trovato positivo alla cuore? La cuore è io! Che fa la vita cambiata da così a così per tutti? Se sei un amico, e che ti dici? Bravo, sei una testa di calcio! Ma che rammani che hai? Ma se te ti avevi una testa di terpiero, tu potevi essere molto, molto, molto di più! Dopo 12 anni, Francesco torni a giocare a calcio. In area, la rovesciata di Neoflaki, gol! La quanta di Safflaki? Da 50 anni. Sa andare il bicicletta? Anch'io so andare. Basta! Flaki? Francesco, a te, grazie. Quello passato non l'ha passato nessuno. Ho perso tutto quello di bello che avevo. Ma so che prima o poi lo ripiglio.